Professore Sgarbi, siamo all'interno del Museo Regionale di Gela, una città di 75.000 abitanti che per 50 anni ha vissuto sulle spalle di una industria pesante che oggi non c'è più. Come si salva? Si salva riveditando quello che sopravvive di un passato glorioso con un museo importante come questo. Io da tempo incontro Crocetta perché ho una specie di turbamento personale. Mi dispiace che uno stia 5 anni in un posto di questo rilievo e anche non solo come carica ma come potere nell'autonomia della regione che è presidente della regione Sicilia e non lasci nessuna traccia di sé. Sparisce come fumo. Lui ho detto che negli ultimi due anni se gli mancano due cerca di fare qualcosa e ho individuato Morgantina con uno dei luoghi su cui può intervenire. Ma io credo che se lui, l'imperio, annulla quell'inutile e brutto progetto per il museo della nave e mi dà un incarico commissariale per fare un museo a Gela. Prima che lui se ne vada in due anni si fa un museo bellissimo e si rimettano tutte le opere nel massimo dello smalto. Però occorre a qualcuno che non... Lo dico perché avendo fatto un museo, ho fatto il museo della mafia, il museo della follia, il museo non ha bisogno di molto denaro di architetti. Ha bisogno di un bello spazio in cui gli oggetti emergano dal buio. E se voi andate a vedere il museo della follia lo vedete. Non so cosa abbia speso Filippini e quelli che hanno fatto l'allestimento. Ma io credo che con due milioni di euro, che sono una cifra forse a disposizione della regione, uno possa fare un museo perfetto entro il tempo della scadenza di Crocetta. Io lo sfido a farlo. Ma perché Crocetta a lei non l'ascolta ed ascolta altri che non gli fanno fare gran belle figure? Non è che mi è venuto in mente in questo momento questa cosa. Per lui lo dico, non per me. Ma perché secondo lei a lei non l'ascolta ed altri sì? La gente può perdere tempo, vogliono guadagnare quattro soldi. Quindi obiettivamente l'articolo della Costituzione, e adesso ho fatto un libro sulla Costituzione con Aynes, la Costituzione della Bellezza, e indica che la Repubblica è forata sul lavoro. Ma sono uno scemo che lavora. Cioè il lavoro è una bella cosa perché uno dica sono indipendente. Ma quando viene da me un disoccupato e mi dice voglio lavoro, dico, tu sei così felice che puoi non lavorare? Perché puoi lavorare? Uno che sta in Sicilia come fa a lavorare? Non può lavorare. Non lo può dire però questo discorso a gelo. Oggi che abbiamo un mare di disoccupati, grazie allo stabilimento che va via. Ma questo non è il ragionamento che io dico perché loro debbano rassegnarsi a non avere lavoro. Dico che nella condizione del non lavoro, cioè dell'ossium, c'è un privilegio. E' chiaro poi che qualcuno deve pensare a te e alla tua sopravvivenza. Nel meridione non è difficile sopravvivere senza lavorare. Quindi voi partite già. Finché ci sono i genitori e i nonni con la pensione, poi diventa un problema dopo. Però è anche vero che tolto il tema sociale, tutto il meridione non è evocato a lavorare. Lo dico per rispondere alla domanda. Poi io sono uno che lavora. Torniamo alla domanda. Come la salviamo questa città? No, a parte la città. Io penso, come salviamo Crocetta e la sua anima? No, ci interessa più Gela che Crocetta, obiettivamente. La gente che dice cose molto semplici, perché tutti rivendicano il lavoro, il posto, e quindi è distratto da persone che hanno come ambizione un piccolo cabotaggio, delle piccole cose, che invece dovrebbe cominciare a immaginare più grande per la sua città, e quindi far sì che la città avesse un museo in cui vanno, non so, 500.000 persone all'anno. Se questo capitasse sarebbe già un elemento di economia, cioè di ripartire, è finita un'industria, ne comincia un'altra.